Ancora ben trovati dalla redazione di Chirance Smart in studio Agnese Federi. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della regione, raccomandiamo di guidare con prudenza e di mantenere la distanza di sicurezza. Maltempo che ha ripercussioni in particolare anche sul traffico navale, si registrano numerose cancellazioni per i traghetti in partenza dai porti della Toscana. Torniamo alla mobilità, in A1 troviamo coda a tratti verso nord tra B1-11 e B1 variante di Valico. Regolarizzato al momento il traffico in A11 in Fipilì, coda per incidente in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Prima di salutarci per la cantieristica, fino al 15 novembre sul raccordo Siana-Firenze è provvisoriamente chiusa la rampa di uscita da Poggi Bonzi Sud in direzione Firenze per lavori sulla viabilità comunale. Buon viaggio di Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.